La psicosi che si fa pupazzo fra le mani di Oghieni Antufieff, l'artista siberiano è come uno sciamano munito di scalpello. Il linguaggio vibrante delle onde nei ritratti del cubano Diango Hernandez sono le inquietudini dell'età contemporanea in dialogo con la ritrattistica del Settecento. Forti carichi i ritratti di Pierleone Ghezzi. Si procede per analogie. L'autoritratto di Carlo Maratta fronteggia l'omaggio a Van Gogh di Enzo Cucchi. Entrambi artisti marchigiani trapiantati a Roma, entrambi attingono alla tradizione. Il cortocircuito che si genera, spiegano i curatori della mostra, coinvolge l'intero palazzo, dalle sale delle mostre temporanee alla Pinacoteca d'Arte Antica e Moderna fino al Museo della Carrozza. Ogni sezione fa storia a sé approfondendo da più angolazioni la caleidoscopica visione del volto, facendo emergere il rapporto che intercorre fra le pratiche del ritratto e la rivelazione dell'identità di un